Cucu, ciao amici di Piazza Affari, eccomi qua, oggi sono venuto a farmi un giretto qui in Pineta però ragazzi, stamattina c'era un sole che spaccava le pietre adesso inizia a cambiare un po' il tempo, c'è questa rietta, io inizio a tirare giù le maniche della mia camicia però avrei bisogno di qualcosa di più, come fare a stare bene, comodo, elegante, bello e soprattutto al calduccio ma io sono andato da Piazza Affari e ho comprato questo fantastico paio in Polartec della Patagonia la marca non ve la sto neanche qui a spiegare perché voglio vedere chi è che non conosce la Patagonia allora ho detto, ma andrò a comprarlo su Amazon, Amazon regalano tutto allora sono andato a vedere e costava, mi sembra, 99, una roba di genere, super offerta, saldo, saldissimo, senza pietà ma infatti io in effetti l'avevo preso, l'avevo visto in una vetrina in un negozio in Milano dai 120 ai 140 sono andato a Piazza Affari, meraviglia delle meraviglie, 50 euro, notare l'interno, caldissimo poi raga, è della Patagonia, cioè non ve lo devo neanche stare a spiegare questo paio qua sono precisissimo, sto caldo, sto bello tranquillo e ho risparmiato un sacco di soldi quindi fai come me, vieni da Piazza Affari a Voghera, in via Cavour 69, di fronte al castello in the front of the castle, the van del castel, ve lo dico in tutte le lingue che non so dai ragazzi, vi aspetto